Brando sta per concludere il suo emozionante percorso a uomini e donne, e nell'ultimo episodio ha dato spettacolo. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Dopo una frecciatina a Beatriz, ha fatto una mossa inaspettata, scappando dietro le quinte per raggiungere Raffaella durante la registrazione del 12 marzo 2024, dove avrebbe dovuto fare la sua scelta finale. Mentre attendiamo di scoprire chi sarà la fortunata corteggiatrice, riflettiamo sull'ultimo episodio e sulle tensioni emerse, come le critiche di Brando a Beatriz e il confronto acceso tra di loro. Il tronista si è apertamente confessato infastidito dall'atteggiamento di Beatriz, definendola un «soprammobile», scatenando una discussione tra di loro. Maria De Filippi ha poi comunicato a Brando la decisione di Raffaella di lasciare lo studio a causa delle sue parole, provocando una reazione immediata da parte del tronista che ha deciso di raggiungerla dietro le quinte per chiarire la situazione. Il finale è stato carico di tensione e incertezza, lasciando il pubblico in attesa di scoprire cosa succederà dopo. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.